Alle porte del quartiere Zeiss, proprio accanto al sottopasso di via Cappuccini, sorgevano ormai da tempo delle costruzioni improvvisate simili a baracche, con annessi dei piccoli orti. I residenti del quartiere, alcuni di essi infatti tuttora proprietari degli orti di via di Viandanti, affittati sotto pagamento annuale dal comune di Cremona, avevano presentato diverse lamentelle al presidente del quartiere Zeiss, Giulio Ferrari. Quest'ultimo, dopo essersi presso carico delle rimostranze dei cittadini, ha contattato l'azienda della rete ferroviaria italiana, proprietaria del pezzo di terreno su cui sorgevano le costruzioni abusive, per chiedere di farsi carico dello smantellamento delle stesse, cosa attuata nei giorni scorsi ancora in via di conclusione. Ferrovie, come vedete, ha provveduto a sgomberare tutte le costruzioni abusive, ha provveduto ad asportare tutto il materiale derivato dalla demolizione e ora provvederà a serrare ogni varco, proprio per impedire che in futuro altre persone si possano insediare in un'area ferroviaria. Siamo consapevoli del fatto che sono presenti alcuni orti abusivi dal lato opposto alla ferrovia, quindi di fronte agli orti urbani regolari. Per quanto concerne gli orti abusivi sono su area privata e quindi non è né di proprietà di RFI, quindi di ferrovie, ma neanche comunale, quindi deve essere il condominio di cui è proprietario dell'area a intervenire. Comunque, al di là del fatto, su tutta questa zona insisterà il raddoppio dei binari con una prospettiva di cantiere che dovrebbe aggirarsi intorno al 2026-27, quindi quando poi inizieranno le fasi di cantierizzazione per quanto riguarda il raddoppio della linea ferroviaria, si metterà anche lì una parola fine, definitiva, alla questione orti abusivi.